un segreto custodito da anni cosa avrei trovato oltre quel muro il cinguettio degli uccelli si era intensificato oramai era un vero e proprio coro e riempiva l'aria in mezzo all'erba la stridula orchestra delle cicale metteva mano agli archi per suonare l'accompagnamento non potevo più tornare indietro alzai lentamente un braccio e avanzai verso il muro finché non arrivai a sfiorarne la superficie coperta di rampicanti al momento del contatto con la pietra mi aspettavo che succedesse qualcosa di tremendo magari avrei preso fuoco o sarei evaporata nel nulla invece non accadde niente con rinnovato coraggio fici qualche passo continuando a far scorrere la mano lungo il muro d'un tratto i rampicanti ruvidi lasciarono il posto a una liscia superficie di legno una porta che si vedi la mano lungo l'accompagnamento